Dobbiamo capire quanto nella scelta, nella valutazione, nucleare sì o nucleare no, la paura di certe cose possa o meno influire. Come sempre, anche questa sera, ci fa molto piacere se voi che siete a casa avrete voglia di intervenire, di essere dei nostri, dicendoci quella che è l'opinione a riguardo sul tema nucleare. E allora permettetemi di dare il benvenuto anche a Chiara Antico, in diretta come sempre dalla nostra redazione. Chiara, buonasera. Buonasera Claudio, buonasera a tutti. Allora, anche questa sera immaginiamo, visto l'argomento, ci saranno tantissimi contributi da parte dei nostri ascoltatori. Vogliamo ricordare le coordinate per interagire con noi? Certo, potete chiamare allo 0381092525, scrivere a redazione chiocciolatelepavia.tv o mandare un sms a 3318860439. E come già successo altre volte, tutti gli sms, anche quelli che per colpa mia non verranno letti, scorreranno in sovraimpressione nell'arco di tutta questa diretta di venerdì 1 aprile. E attenzione, se avete voglia di intervenire anche telefonicamente, apriremo le linee, quindi se volete iniziate a prenotarvi. Ci interessa fare un dibattito che sia costruttivo, però non ci serve fare come magari si vede a volte nei network nazionali. Io sono a favore, io sono contro e basta. No, noi vogliamo approfondire un po' il tema. Io partirei però dal dottore Andrea Borio, che è il direttore dell'ENA, laboratorio di Pavia, che studia proprio il nucleare. Allora, le chiedo, facendo ammenda della mia incommensurabile ignoranza, di aiutarci a capire perché il nucleare è tra le forme di approvvigionamento energetico una di quelle che va, come dire, maneggiata con molta cautela. Le faccio una domanda che spero sia stata posta in modo politicamente corretto. Beh, diciamo che la natura ha concentrato nel nucleo degli elementi la stragrande maggioranza della sua energia. E riuscire a sfruttarla in maniera controllata vuol dire sfruttare la stragrande maggioranza dell'energia che c'è nell'universo. Quindi l'idea di sfruttare la fissione nucleare e un domani la fusione nucleare vuol dire avere a disposizione un'enorme quantità di energia che è necessaria per la crescita e lo sviluppo della nostra civiltà e del mondo in generale. Chiaramente, proprio perché nel nucleo è concentrata la stragrande maggioranza dell'energia, bisogna stare attenti a come liberarla. E se si sbaglia a liberarla, sappiamo benissimo che si può determinare una situazione disastrosa come quella dell'esplosione di una bomba atomica o di una bomba nucleare. Tuttavia, l'uomo ha imparato a gestire questo rilascio di energia a partire dal 2 dicembre del 1942, quando Enrico Fermi sotto le gradinate dello stadio di Chicago ha realizzato la prima pila atomica. L'uomo ha imparato a gestire questa reazione a catena e a controllarla, cioè farla aumentare o farla diminuire a seconda delle proprie necessità. Quindi, far sì che venga sprigionata più o meno energia a seconda delle proprie necessità. Ovviamente, sfruttarla in maniera quantitativamente importante come avviene in un impianto nucleare di potenza, vuol dire che bisogna mettere a punto e implementare sistemi di controllo estremamente sofisticati e in grado di intervenire in maniera certa e di controllare quindi in maniera certa la reazione di fissione nucleare. Questo, di fatto, è avvenuto anche nell'incidente di Fukushima. Il problema dell'incidente di Fukushima non è stato il controllo della reazione di fissione nucleare, che è stata spenta anche nel reattore di Fukushima Daiichi, è stata spenta subito. Il problema è che l'energia che viene rilasciata nella reazione di fissione nucleare è tanta e viene rilasciata in un periodo anche prolungato di tempo. E allora, anche se si interrompe la reazione di fissione nucleare, quindi si spegne, tra virgolette, il reattore, in realtà non lo si spegne perché questo reattore continua a produrre energia, calore. E quel calore deve essere rimosso con una certa continuità. Quindi la maggior parte dei sistemi di sicurezza di un impianto nucleare sono impiegati per consentire una rimozione continua del calore del combustibile una volta che la reazione si è spenta. L'incidente di Fukushima purtroppo è stato talmente devastante, perché è stato devastante il terremoto e lo tsunami, che nell'impianto di Fukushima Daiichi, che è solo in quell'impianto, ha fatto sì che non entrassero in funzione in maniera, diciamo, secondo quanto previsto, questi sistemi di rimozione del calore. Cosa che invece è avvenuta in un impianto contiguo che è Fukushima Daiini, o Nagawa, o Atokai. Purtroppo a Fukushima Daiichi, l'onda di tsunami, che l'ultima stima la danno 14 metri, e 14 metri è una palazzina di 5 piani, un'onda con un fronte pari all'altezza di una palazzina di 5 piani, che ha investito un territorio estremamente vasto, causando tra terremoto e tsunami qualcosa come 20.000 morti, grosso modo, perché forse è qualcosa di più, visto che i dispersi è molto difficile che li trovino vivi. Ecco, questa onda ha messo fuori servizio quei sistemi che hanno proprio lo scopo di garantire la continua rimozione del calore, anche quando la reazione nucleare si è arrestata. Questo può determinare dei grossi problemi. Poi se vorrete entriamo un pochino più nel dettaglio. Io immagino che poi inevitabilmente parleremo di questo. Io però le faccio una domanda da bar, perché poi in diversi argomenti, quando si vedono le notizie riportate dal Giappone, la domanda pone il dibattito stesso, a volte poi si incentra su alcune questioni. Ma ok, c'è stato un terremoto eccezionale, un maremoto devastante, come anche lei ha ricordato poco fa, è solo in questi casi che un impianto, una centrale nucleare può diventare in qualche modo pericolosa. Poi vedremo anche di capire in cosa si sostanzia l'aggettivo pericolosa. Oppure di per sé possono accadere eventi molto meno devastanti e molto meno imprevedibili di questi, per rendere in qualche modo pericoloso questo tipo di impianti? Allora, dipende dall'impianto. Gli impianti come quelli costruiti in Giappone, che sono degli impianti di seconda generazione, vecchi però, perché sono stati costruiti all'inizio degli anni 70, sono in grado di fronteggiare un sisma. Sono stati progettati per fronteggiare un sisma grossomodo di 7 gradi Richter e sono stati in grado in realtà di fronteggiare un sisma di 9 gradi Richter. Come ricordavo prima, gli impianti di Fukushima Daini, a seguito del sisma, si sono arrestati, l'onda che ha colpito Fukushima Daini era più bassa e quindi i sistemi di raffreddamento hanno continuato a funzionare e i reattori si sono portati in una condizione di arresto a freddo, in sicurezza. Lo stesso è successo a Onagawa e lo stesso è successo a Tokai. L'impianto di Fukushima Daini era stato progettato per fronteggiare un terremoto di 7 grado e ha fronteggiato un terremoto di 9 grado. Le strutture hanno retto, l'integrità delle strutture è stata conservata. Era stato progettato per sostenere un fronte d'onda di circa 6 metri ed è stata un'onda di 14 metri che ha creato il danno a quell'impianto. Perché? Perché quell'onda ha impattato in modo tale